Ciao, qui è Joe di Soluzione Attrazione. Nel video di oggi andiamo a rispondere ad una delle vostre domande che ci sono arrivate. La domanda è questa. Ho conosciuto una ragazza in chat, ma ogni volta che le chiedo di uscire, lei mi dice che non se la sente, che è presto, che si sente confusa, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa posso fare? La risposta semplice alla tua domanda è questa. Ci sono molte frasi prescriptate, per così dire, che tu puoi usare in queste situazioni, e se tu vuoi approfondire ti lascio il link a Soluzione Digitale, il mio corso sull'approccio online. Detto questo, però, al di là di una frase, una frase testuale che ti leva le castagne dal fuoco nel momento in cui ti trovi in una situazione del genere, risulta molto più importante capire che online la realtà della seduzione online funziona così. Cioè, funziona, come al solito, per quello che è l'ambito seduttivo, volume più skills, ma più filtraggio in questo caso, perché è importante che tu capisca che online le ragazze che ti piaccia o meno, che tu ne voglia prendere coscienza o meno, sono bombardate. Quindi, come dico all'interno del corso, il cazzo è una merce rara e di scarsissimo valore, quando parliamo di quello che è il mercato sessuale online. Quindi, non ti fissare particolarmente su ragazze che non ti rispondono, o ragazze che ti creano troppi problemi per uscire. Detto questo, bisogna capire da dove deriva il problema. E questa è una situazione dove ti trovi spesso intrappolato, è un caso specifico, perché se è un caso specifico io ti consiglio semplicemente di lasciare perdere la ragazza, se le continua a dirti no, 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 c'è questo problema, non ti conosco abbastanza, mi sento confuso, eccetera, eccetera, eccetera. In tutte quelle che sono le cose che tu hai menzionato, in quella che è la tua domanda, perché molto probabilmente questa è una delle perdite tempo che ti insegno a filtrare all'interno del corso. Se invece questa è una situazione che si ripete continuamente, ci possono essere tutta una serie di problemi che stanno nel profilo, nella descrizione profilo, nella scelta delle immagini e in generale in quella che è la tua formula per passare dal primo messaggio a quella che l'ha preso dal numero. Quindi, se questo è un caso sporadico, non ti preoccupare, semplicemente filtra questa ragazza e concentrati su altri. Se invece questo è un qualcosa che ti succede piuttosto spesso, spesso, eccetera, eccetera, per risolvere tutti questi problemi, ti ricordo, c'è seduzione digitale, il link in basso e ti spiego esattamente qual è la strategia passo passo per ottenere il massimo successo possibile online. Non scappare prima di esserti iscritto al canale e se vuoi avere più successo su app e siti di incontri, ho creato una serie di video gratuiti su questo argomento. In questi video vedrai vari screenshot di chat in cui ti mostro passo passo tutte le tecniche che ho utilizzato per portare ad appuntamenti donne che ho conosciuto su siti app di incontri. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.